Si chiama Giobbe, lo spettacolo in scena alle terme di Diocleziano per ricordare gli orrori dell'Olocausto in occasione degli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. Maria Teresa Laudando. Sono passati 80 anni dall'introduzione delle leggi razziali in Italia che di fatto fecero degli ebrei italiani dei non cittadini privati della possibilità di studiare, di insegnare, di esercitare le libere professioni, di lavorare, in sostanza di vivere da uomini liberi. Leggi ingiuste e crudelli che prelusero all'Olocausto. Per non dimenticare alle terme di Diocleziano a Roma fino a domani sera in scena uno spettacolo icono musicale, un'opera corredata dalla proiezione di immagini evocative e dolorose dal titolo Giobbe del compositore Yuval Abittal, in cui la voce del personaggio biblico è affidata alla senatrice a vita Liliana Segre. Quando mi chiedono cosa l'è in comune con Giobbe, la speranza. Attraverso dolore, persecuzione e lutti non bisogna mai perdere la speranza. Bellissime le immagini proiettate sulle mura millenarie delle terme, immagini dell'Osservatorio Solare della NASA alternate ai materiali storici provenienti dalle teche della RAI, mentre le musiche seguite dall'ensemble PMCE dell'Auditorium di Roma e dai solisti vocali dell'Auditi Vocal di Dresda riempiono lo spazio sonoro. Cantilazione antica ebraica, cori, elementi anche della musica elettronica, tutto insieme per dare un'esperienza immersiva e un incontro umano profondo.